Fare acquisti online in questo periodo conviene? Faccio questo video perché alcune persone stanno comprando oggetti online pensando di continuare a risparmiare, ma bisogna stare molto attenti. In questo periodo in cui le scorte di molti prodotti sono limitate, ci sono molti prodotti esauriti, ci sono stati dei rincari importanti anche del 250%, soprattutto sul materiale informatico. Prendiamo ad esempio le webcam. Sono diventate difficili da reperire e quando le trovate costano molto di più del prezzo standard. Al gennaio 2020 avevo salvato dei preventivi su un paio di siti online di informatica. Adesso per curiosità sono andato a rivedere i prezzi di quei componenti e ho notato che era tutto rincarato dal 10 al 30%. Questo è decisamente il momento meno adatto per comprare online, tant'è che l'altro giorno mi si è guastata la stampante, ho fatto due calcoli e alla fine mi è convenuto di più prenderla in uno dei negozi fisici che potevo raggiungere. Quindi, è ovvio che nella situazione attuale acquistare online sia spesso necessario e talvolta si preferisce spendere di più, l'importante è esserne consapevoli. Per cui, se dovete acquistare online, consiglio intanto di rimandare l'acquisto di oggetti non importanti a quando la situazione sarà cambiata e di limitarsi ad acquistare online solo le cose necessarie, qualora non si potessero reperire facilmente in zona o anche solo se non si vuole uscire di casa, ovviamente. Detto questo, io devo per forza comprare online quella cosa, cosa dovrei fare? Innanzitutto provate a cercare qualche recensione recente sui vari siti, solitamente indicano anche il prezzo del momento, così potete farvi un'idea di quale sia il valore medio di quell'oggetto e il rincaro di quanto è stato. Poi, cercate quell'oggetto su vari siti e non solo sul sito che usavate sempre perché era più economico affidabile, poiché in questa situazione ogni singolo oggetto può avere un rincaro variabile a prescindere dal sito, quindi fate una ricerca più approfondita. Infine, cosa molto importante, valutate anche altri modelli più potenti e meno potenti, perché vi assicuro che potreste avere una sorpresa. Ebbene sì, capita che alcuni modelli siano rincarati talmente tanto da arrivare a costare di più di altri modelli più potenti, quindi paradossalmente si spende meno comprando il modello successivo. Mi è capitato di vedere questo su una particolare webcam. Il modello che cercavo costava molto di più del modello successivo, credo comunque dipenda dal fattore scorte tutto questo. Questi erano ovviamente alcuni consigli, state molto attenti, fate ricerche, valutate vari modelli. Buona fortuna!